La collaborazione è iniziata quando un mio amico che lavora con loro ha sottoposto il mio lavoro di illustratore all'agenzia, gli è piaciuto molto, mi hanno coinvolto in dei progetti via via sempre più continuativi. Il concept dei Leoni nasce dalla richiesta appunto di Snob, dell'agenzia Snob Production per Carart, di sviluppare 8 pannelli, 8 illustrazioni per presentare dei nuovi Carart Store in Italia, quindi una rassegna basata sull'essere fieri del proprio lavoro, sul presentare con orgoglio il negozio in cui si lavora. Siccome non mi piace slegare le cose che faccio da un concept, da un filo conduttore, decisi di trovarne uno, partendo appunto dall'assunto di essere fieri di quello che si fa, il simbolo arcaico di fierezza per eccellenza è il leone e quindi ho ricercato per ogni città in cui c'è uno dei Carart Store coinvolti nella rassegna, un leone da rappresentare nei miei pannelli per questa rassegna. Beh, per forza di cose ho quello di Roma, la mia città, che è un leone che si trova in uno dei cortili dei Musei Capitonini, un leone su cui ho anche delle foto da piccolo a cavallo di esso e quindi quando ho pensato alla rassegna ho pensato che quello di Roma sarebbe stato sicuramente lui, nonostante qui ce ne siano molti di molto belli, affettivamente lui è quello a cui sono collegato. Grazie a tutti.